Siamo a Londra nel 1980. Alex è il capo di un quartetto di giovani teppisti che scorrono le loro giornate nell'esercizio di ferrate violenze e stupri dopo essersi drogati. A farne le spese sono un mendicante selvaggiamente picchiato, una banda rivale fatta a pezzi, una ragazza di strada violentata e infine uno scrittore massacrato di botte fino a procurargli una paralisi agli arti, mentre sua moglie, di cui abusano, morirà qualche tempo dopo. Alex inoltre è appassionato di Beethoven, di cui si serve per immeggersi in sogni naturali. Scontenti per il suo dispotismo, i compagni, allorché egli uccide una ninfomane, lo colpiscono e lo lasciano nelle mani della polizia. Dunque, l'arancia meccanica muove da un interrogativo psicologico, etico e sociale. È possibile oggi essere uomini medianti autonome scelte tra bene e male? Vi risponde con estrema sfiducia denunciando una cultura condizionante, alienante, deformante. Film, linguaggio e arti varie. Denunciando una società incapace, educatori, istituti di correzione, astratta, religione, diabolicamente strumentalizzatrice, poliziotti, criminali, ministri, servizio del disordine organizzato, una politica per il potere e incurante dell'uomo. Denunciando una scienza al servizio di chi infierisce. È evidente che tale giudizio, pur contenendo sagge munizioni sulle situazioni moderne, trascura, ingiustamente, gran parte della realtà per nutrirsi di un pessimismo radicale. Inoltre, pur riconoscendo all'opera notevoli qualità tecniche, originalità di soggetto, potenza evocativa, armonioso uso degli elementi di tutto il linguaggio audiovisivo, si deve sottolineare che l'analisi è fatta partendo da estremi di violenza e sesso, quasi, che le chiavi di lettura della psiche e della società siano le pagine più virulente di Sade, Freud e Marx. L'impegno del regista in queste e in altre sue opere non permette di sospettare che si tratti di una scaltra operazione commerciale. Tuttavia, tenendo anche conto del grottesco a cui è difficile dedurre per le deformazioni proprie dello stile, il discorso obiettivo, è da ricordare come sia facile che quest'orgia di sesso e violenza si proponga come tale allo spettatore e magari, contro le sue intenzioni, divenga un autentico condizionamento a danno della coscienza. La regia è di Stanley Kubrick con Michael McDowell, Patrick McGee, Michael Bates e John Clive, Paul Ferrer, tratto dall'omonimo romanzo di Anthony Burgess che pochi, in effetti, citano quando parlano di questo film. 138 minuti segnaliamo la bellissima fotografia di John Alcott. Origine degli Stati Uniti possiamo definire questo film commedia satirica. Signori, grazie, buona serata, buona visione con Arancia Meccanica. La prossima puntata, la prossima recensione. Commedia, grazie, Grazie a tutti, buona vedere conヶ cuatro settimane Grazie a tutti.